se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi dei completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bella regà, aggiornamento fail del 2508 2022 con sul podio ragazzi la bf club ragazzi per vincere bisogna vincere le gare in categoria arrivare nei primi 3 nella settimana dopodiché ci servirà un cazzo ragazzi perché hanno rimesso le solite 4 macchine della minchia che abbiamo visto, rivisto, stravisto, rivisto, stravisto continuamente quindi ragazzi passiamo magari a qualcosa che ci può interessare di più hanno messo le gare, quelle della hotring con gli RP doppi, tripli, che cazzo sono ragazzi vi consiglio di farle sbloccare tutte le livree così in questo modo quando andrete a fare i car to car se usate la hotring come veicolo madre potete passare anche delle livree non selezionate su determinati veicoli quindi vi faccio vedere che qua sulle gare stante abbiamo le gare della hotring ragazzi mentre hanno aggiunto anche ogni tantum le missioni di Lamar nelle attività della categoria missioni ci sono delle attività ragazzi con gli RP quadrupli quindi nel senso se volete andare a vedere che cazzo sono potete andare a vedere tranquillamente scusate il mio francesismo stamattina ragazzi ma sinceramente non ho visto niente di eclatante dovevano uscire delle macchine è uscita una cagata perché potete tranquillamente andare a vedere ragazzi scusatemi si può modificare l'abrioso da Benny si veramente carina la cosa ora vi faccio vedere la clip del sito di Benny ragazzi ma io mi aspettavo qualcosa di più grosso quindi teletrasporto verso il casino ragazzi vi ho fatto vedere questa macchinina che dovrebbe essere la Paragon si vince ragazzi facendo tutte le missioni della signorina Breaker e tra l'altro ce la regala anche armata e blindata ragazzi quindi sono andato a controllare se c'era anche qualche appartamento in sconto non ho visto niente ma ragazzi abbiamo in sconto le modifiche del light e tutto il resto su in light se vi può interessare dopodiché hanno messo come vedete i soliti veicoli del cavolo nei nuovi saloni niente eclatante ci sarà la possibilità comunque sia di sbloccare l'M16 ragazzi e vedremo invece su leggendari come al solito ci sono qualche veicolo ragazzi in sconto è inutile anche che ve lo faccio vedere ragazzi perché comunque sia sempre gli stessi mezzi quindi a sto punto regà se mi sono fumato qualcosa sciolto qualcosa che non ho visto in giro scrivetemi nei commenti ragazzi così ci aiutiamo tutti quanti comunque regà vi lascio al prossimo video e spadabam buona visione viaggare 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 Grazie a tutti.